organizzare i giochi del mediterraneo non significa soltanto realizzare gli impianti aprire i cantieri avere le infrastrutture per un evento così importante e prestigioso per organizzare appunto una manifestazione internazionale di questo tipo è necessario anche attrezzarsi sulla logistica per esempio dove tenere il villaggio olimpionico avere un'idea di come strutturare i trasporti di come creare insomma l'evento anche dal punto di vista della comunicazione del marketing e queste cose le fa il comitato organizzatore ma per farle deve avere una dotazione finanziaria che ammolta circa 50 milioni di euro scarsi e che ad oggi a due anni esatti dall'inizio dei giochi ancora risulta essere con le casse vuote senza un centesimo da poter destinare a questo tipo di iniziativa ci chiediamo il perché eventi così importanti vengano preannunciati e poi non siano accompagnati anche da tutta una serie di misure di iniziative che possano permettere di organizzarli di tenerli nel modo più giusto nel modo anche più più logico abbiamo scritto una serie di articoli abbiamo sollevato più volte questo tema l'abbiamo fatto anche nella giornata di ieri dalle pagine del nostro giornale continueremo a farlo perché se non si dovessero trovare nel più breve tempo possibile queste risorse il rischio è che gli impianti ci siano ma poi manchi tutto il resto si tratterebbe davvero di una beffa l'ennesima della storia recente e contemporanea di taranto grazie a tutti